Siamo al Lido di Casalecchio e la Mary sta dando un po' di papino ai pulcini, guardate lì lì, gli altri due sono già sassi, guardate questi quattro che vogliono ancora papino, si impalucano tutti, guardate lì che tenerezza, guardate il Suzuki là in foglio, i piccoli i piccoli bimbi, quanto tenerezza, ma come si fa a mangiare la carne, non me lo spiegate, a mangiare il pollo, il maiano, sono piccolini, i guarini, tenerezza, sapete che il vostro pollo è praticamente tra quindici giorni, un cosino così, un cosino così tra quindici giorni, non si fa, lo stanno con un vestitino proprio, no, tanto che io devo cadere, muore, non si muore, viene che c'è un papino anche a me,